Sì, ma allora fai una domanda perché sennò mi... Cosa ne pensi quest'album in lavorazione? Penso che può essere una riforma strutturale, no? Che non è compagna dalle cose che avevamo fatto prima. Parli anche per gli italioponi? Non è proprio lo stesso stile, non è lo stesso stile. Un cambio radicale secondo me. Un commento sulla tecnica? Beh, non sapevo. Fai pietà prima e fai pietà prima. Qual è secondo lei il musicista più tecnico dei Fulbron? Beh, è me che discorsi. Il più creativo? Ancora me. Il più intelligente? Sicuramente me. Il più trina? Sicuramente gli altri quattro. Perché? Perché voi quattro se quattro merde. Mi interessa quattro merde. Un commento a caldo sul nostro fonico? Grazie mille a Remil per questo contributo e alla prossima. Saluta. Arrivederci. Arrivederci.